Bene, siamo in diretta, giusto? Aspetta, qua abbassiamo un po' l'volume. Episodio PS Mania numero... Non lo sai? 6! No, 5, guarda, c'è quasi preso. 5, c'ero quasi, c'ero preso. Oggi special guest, come ti vuoi annoverare in questo episodio? Eh, io sono Sickness During Period, Sick, famo prima. Sick? Sì, Sick Sick Sick. Anche poi infatti c'era sulla felpa scritto, no? Ah, no, questa no. Ah, no, questa è questa. È vero, va, farò mostrare, non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo, va bene. Vabbè, oggi parappa de re per giocarmo, sì. Esce. Ah, non funziona, no, scherzo. No, no. Iniziamo. Intanto che avvio. Vedi, noi dobbiamo giocare così, è nello screen, come si dice, in Windows Mode, va bene? Ci sentirà, leggermente io rialzo il volume, qua. Notate un po' il microfono che almeno te... Eh, qua, io ho esperto di musica. Esatto. Perché dei suoni cosa? Eh, il campionatore, le chitarre, i bassi, i synth. Perché non fa? Ah, ok, devo fare. Il Game Boy, non è vero. Però diciamo... Game Boy poco? Poco, poco. Ah, comunque, stavo vedendo dove prende la cartuccia per il Game Boy lì, ho visto che c'è anche, vendono anche, il copri batteria che mi serviva del colore, sarà, non sarà un pezzo ufficiale Nintendo, però è utile. Sì, sì. Dai, dai, dai. A 20 cent. Ah, cazzo. Quindi adesso... Esa, è importante. Quindi non schifchiamo... Intanto guardiamo la presentazione, io vinco la live. Ma, è produzione giapponesa, sì? Sì. Ma perché sta musica con me? No, non c'è. Ma, non c'è parolaccio sullo YouTube, se te banno. No, no. Ah, infatti non è anche te. No, non è YouTube, ma non c'è problema, basta che non si dicono cose cattive. Ah, che loro hanno visto sto film, vabbè, ma non fa niente di che. Perché comunque fa bella figura, sa la ragazzetta, fa il buio, no? Che sicacastoria. Buongiorno, fiori e un grande chocolate frosky, per favore. Non è. Non è un fiore. Non è un fiore. Ho sempre avuto il cappello di Paraspa. Per favore, ci sarà da lei. Al posto, perché... Che figuraccia che fai, Paraspa. Però è molto... Cioè, mi dici, ti trovo, dici, questi è io, c'ho l'acqua, basta. Quando si era poveracci, così. Si sentirà la gente bene. Comunque, io passerei un po' a... No, ho sbagliato. Avevo disattivato da noi il volume, ma loro in teoria l'hanno sentito. Ok, The Hip Hop Hero, perché questa è la versione europea, si chiama The Hip Hop Hero. No, cos'è che volevo dire? Niente, no, ve lo dico un po' di curiosità, che non abbiamo una rivista oggi, però si può dire che è un cane antropomorfo, si capisce? Sì, dopo c'è stato il seguito, il 2, e lo spin-off GMLM, dove c'è la chitarrista, un anime, 26 episodi, mai visto, te l'hai mai visto. Ma infatti manco... Mai sentito via, non è stato uscito solo in Giappone. Sì, forse. Cioè, che neanche lo trovi streaming da quanto è underground. Eh, no, infatti, bello, io lo vorrei vedere, però comunque c'è il merchandise, in Giappone c'è scritto che è grande merchandise, eccetera, eccetera, però vabbè, oggi niente curiosità strane. Ma in che anno siamo? Qua a 96, mi pare. Sì, in Giappone, no, da noi l'anno dopo è uscito, novembre, quasi l'anno dopo, perché sei... Oh, in Giappone è uscito il compleanno mio, 6 dicembre... 6 dicembre, no, perché non so, del 96. Non va adesso. No, però la data sì, 6 dicembre, invece negli altri posti... Ah, bellissimo, Luca, noi skipiamo per non spoilerare. No, no, spero, non. Lui è fighissimo, il regolo che fa un po' reg. E niente, dai, giochiamo, famo una volta per uno, così. Ancora. Non ho capito. Qua spengo. Vai, vai, chiudi tutto, chiudi tutto. Hai tutto il telefono. Questa è il suo motto, c'è scritto. Abbiamo messo, come si chiamano, i sottotitoli. Sì, ma parla di sì. Non ti voglio coprire, però si dovrebbe sentire. No, vabbè, ma io... Aspetta. No, 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 la nostra. La nostra, ecco qua. Dai, vai, let's go. Se non vediamo che siamo scarsi, famo facile, perché già prima avevamo fatto le prove, non mi ricordavo fosse così tosta. Così complicated. Sì. Come dire Bavri Lavinio. Sì. Che fine ha fatto a vedere Lavinio? Ah, no, c'è Davide Lillio. No, però te arriva un bullo, capito? No, ma non è vero. Bene, sembra a vivi sembra, bella. Beh, bene. Che abbiamo qui? Plane di manchi per tutti, certo? Yeah. Non solo manchi, ma un piccolo bambino, tutti vestiti per noi, non è vero? Non è vero? Ah, sicuramente vengono bullizzati, ecco perché dopo va a karate, capito? Che squadra, pezzo. Eh, lo so. No, volevo dire perché... Sì, non c'è bisogno di sfruttare. Sai che in voi i video li schimpavo da piccolo, ma no, ce l'ho visti pochissimo. Ehi, è Joe. Io ho viaggiato le sette città, ho avuto tutte le montagne, e ho avuto di quanti poteri che ho avuto, sono sufficienti per i tuoi uccisi come te. Io prendo la mia magia di gloria e ti prendo a una cruzata per destruirvi tutti te. Ora, voglio fare un ucciso di un ucciso di coffee shop in cui erano 4 ucciso di te. Oh, here we go again. Let's go. Bye now, bye. Wow, I need to become a hero too. Vabbè, fa bella figura. È un po' sì, how could I possibly do that? È un po' antico, come cosa, tipo, lui vuole fare... Sì, I know, I gotta believe! È un po' ruro, 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 infatti, Master Onion, come si chiama lui? to the Fruits Dojo. Ah, fu fu ru, perché era fu ru. Ehm, non mi ha dato. Io che attaccare qualcosa, mi ricordo, cioè, sono un po' di... ma prima, let's see if you can challenge my... Rav, 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 rav. Il colcello, è come il gas. Lui petta è una cebolla. Sì. Infatti, i Fruits Dojo, i dojo, i dojo, i dojo, i dojo, i dojo. Un po' di... Un po' di... Ambro! no 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 si no 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 ah no no ma io non ho capito bene perchè tipo fa anche un po' freestyle ma il freestyle non ho mai capito quando lo devi fare caccia caccia niente è fallito vuoi provare? ah sì cosa? niente master of rap esatto ho fatto hicks intanto io vado per questo modo non c'è nessuna dire così e basta mi piace perchè è 2D vado già per 3D c'era prendiamo il tempo il tempo il tempo è un po' il tempo c'è Sì, è vero. Musica un piano! un piano è è il palazzo è il signorante dai grande grande a presto abbiamo una parola di carri il motore io ho dato dai dai un po' dai dai no no è finita buongiorno non è mai come la memoria posso però quando l'allievo supera il maestro bravo adesso finisci tutto il gioco ah questo no adesso lo schifasse no l'endere della mia semplice introduzione o che ti metti ai piedi tuoi crusader mi metti a scoprire poi alla fine non ha insegnato niente no infatti ha fatto quell'altro quello è andato via ah perchè era save che dobbiamo salvare vabbè adesso come si fa? ciao ci entra monpe zoom mi piace scrivere nick nuovi su giochi vecchi ah ci sto vabbè scrivo monpe alla peggio si madonna non puoi neanche te ne premuto vedi no devi proprio te la fa fati tanto basta scriverlo una volta oh la u zoom e niente ma no no non ci ho cliccato ah mompez dai bello si come mi chiamava un amico mio dalle medie mompez salutiamo questo amico semmai guarderà questo video ciao ciao dai fatta sta carica sta carica tutto regola spero si senta bene perchè a volte io devo parlare così e se no ma mettetelo bene sto amico mettetelo così no ma si è modulabile ma adesso c'è il livello della patente spoiler poi dici chi guida ha capito lo suo amico è nudo è l'unico animale non vestito ma magari c'ha c'ha caldo infatti se sta mai in gelato c'ha una calma e arriva lui con il macchino una barca ma è sempre russi tanto ci sarà sto tizio e dopo scoprirà no niente ciao chad so quelli capito no che i fiori è rossi è rossi non solo ci sia un convertibolo e è capabile di buttare grandi e più in un solo perciò le ragazze vorrei andare a la piscina con me? certo se tutti noi possiamo andare ovviamente ovviamente vengono 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 come vengono 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 se viene andate qui si dai provo io anche sta canzone è la mia preferita dopo la prima e la seconda mi piacevano un botto poi in verità lo riascoltate fino alla alla quarta so belle le ultime due non è che non mi piacciono solo che l'una è un recap è una boss rush se ti ricordi ma cazzo se ho solo avuto un'auto e una licenza posso prendere Sunny a qualsiasi ma non posso farlo non posso farlo comunque siamo a un quarto due siamo al primo livello ci sta nel senso non è che due di molto lei l'istruttrice si chiama mousse e lini perchè mousse è quell'animale lì che non so cioè no il cervo l'alce quindi mousse e lini che è suonato si sono appena perchè? ah è vero ci dissociamo eh assolutamente assolutamente step on the gas va già ma cazzo fatto oh 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 let's jam cazzo subito non ci riesco oh eh dai dai vabbè dai purello dai un attimo guarda comunque tu sei più bravo a questi giochi qua io perchè non riesco a capire se me se me prende il giù non ho capito quanto devo no lui canta fuori tempo ho scoperto anche chi fa la ah dai però sperato sperato non ho capito io faccio no 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 here we go step and turn the signal to the right check and turn now turn to the right now turn right mmm and turn the signal to the left eh eh vai 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 no ci hanno mandato a farlo eh tanto ci hanno mandato a farlo no 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 vai 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 no no fai bene andiamo un po' perchè non capisco quanto devi ripartire eh va subito va subito si va step on the gas step step on the gas A constitutionale A scoprono A scoprono A scoprono a scoprono Come a chacere Puoi specifiche Che A scoprono Come a chacere non non capito Fai la porta Si, si supi Si spi Si, si spi Hai visto che stanno parlando Do you know where we stop the car? Do you know where we stop the car? What? Do you know where we stop the car? Do you know where we stop the car? Yes I forgot to close the door I forgot to close the door Dai ci siamo, ci siamo, le recuperi Perché guess what, capito? Qua hanno guess questi Questo non è kung fu La prima Do you know where we stopped the car, yeah? Lo c'è, eh Perché Perché quando la fa provare Eh ma perché non c'è una metrica Sflesha di dio Però dopo un po' Parte subito Cioè io guardo la testa di Parappa Eh pure io Vabbè 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 Non c'è, sto su rapping good Cap the car There's a man Can't you see? Do you know where we stopped the car? Do you know where we stopped the car? Yes Yes What, what, what? Do you know where we stopped the car? Do I know where we stopped the car? Yes Yes What, what? Do you know where we stopped the car? 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 Do you know where we stopped? vedete c'è poco d'ora, c'è tutto ma non è ma non è ma non mi piace mai, non mi piace questa testa, la struzione no, ma dopo lascio bene vieni, ma dopo questo è il modo di giocare a motherboard è per sempre? no, quello ah sì, motherboard è per ma non è la tranquille ma non, non mi piace ma non è l'intervento ha invece ti ho avuto la không? voi che vedi voi che vedi tutte le tue vi ho avuto diretti e mi viene fatto la macchina dai non è l'opinione è perchè mi sa che ci sono di checkpoint voi e provare dai, vai provare no, no, no Sì, sì, no, no, ma se c'è voglia di provare. Sì, sì, sì. Ci mancherette. Sì, è al secondo livello, che no. Sì, no. No, c'è accaduto sul tempo. Il primo è lento. Questo è velocissimo. Sì. 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 Vabbè, con questo lo fermiamo per salire, con questa, con questa catchphrase. Vabbè, vabbè. Sì. 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 Vai. Comunque adesso che ha zoomato su Parap, oh, perché fa... Eh... Non è che c'è un tempo che non fa vedere, no. Ah, me fremmo e me lo vieni. No, no, in teoria è tutto off in screen. Eh, non ho capito quando deve partire, vabbè. No, ho già schifo. Ma perché? Dove ho fatto bene così? Non ho recuperato, cazzo. Non ho capito. Do you know why we stop the car? Do I know why we stop the car? No, got to do it again. Fammi riprovare due secondi. Cazzo, questo l'ho fatto benissimo prima. Zero, zero, proprio. Ma come è ovviamente facile. Mi sa, mi sa di sì. È tosta, è incredibile. Tanto fa subito. Ma perché? And turn the signal to the left. Check, and turn the signal to the left. Ah, infatti questa è una presa bella. Non c'è n'altro quando chiude la seconda volta. No. No. Sì No, perché ero su bad, se ero su good passavamo, capito. Ah, calma d'osca. No, no, calma d'osca. Sennò facciamo faccio. Spera, no, 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 no. No, 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 no. Mi sento qua. Non fermo qua. No, ma che ero giù... Ma come abbole a casa, sonia? Oh fun. Sì No, mi ha fatto da camera, ha detto proprio che c'è una caccola No, poi ho detto Sì 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 Chi Sì 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 Driver Alla A moment A moment Ma questo è il padre di... il padre di parati Si le parti 3D sono brutti, cioè un po' spogli Le sono disegnate bene Si si E lei fa il bulletto che c'ha la macchinina Ehi, come me Ehi, come me Eh, si è Sembra tipo... Ehi, come me Questo è davvero molto divertente Non sarebbe bello se potessi continuare a guidare Ehi, come me Ehi 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 Io Ehi C'è Ehi 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 Ed 希望 di Montelago pare Eiff Leip Wow Ma questo mi ricordo che era il mio primo blocco totale, vuoi provare? No, proviamo il blocco totale. Qua è questo, lui il master Fleece Law, lo è difficilissimo. Capiamo un attimo. Musica eccellente, ma... Che musica sai di chi sono ce l'ha scritto qua? I'm working in the flea market so early. I've been working here since my mama was a baby. Just because the rhythm is slow, that don't mean that you can't flow. In the rain or in the snow, gotta gotta funky flow. In the rain or in the snow, gotta gotta funky flow. Nuh 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 n C'è 7, 8, 9, qua. Ah, così. Declassato. Vuoi provare? No, vuoi provare una famosa. Questa è difficile. Aspetta. Guarda, questa cosa. Sì, sì, sono un'immagine. No, intanto io conto le note. Tu, le giorni. Non so, e anche io le conto. Le noto. Sì, le pseudo. Sì, 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 sì. In the rain and in the snow It's unfriendly I have to try it I've got a trick I can't sell a book like this I would buy a book like this I would buy a book like this I would buy a book like this Because after he repeat what he said The first time he says I'm the number one ruler of the seven seasons The scum over here will bring you love The scum over here will bring you love The pump over here comes with the drum The pump over here comes with the drum The pump over here with the drum No 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 Come on Come on Tu devi Per capiscare Se l'ha dette tutte Cioè perché lui ogni nota giustamente pronuncia una parola no? Fai x intanto che hai paura che c'è il te C'è il te Quindi tipo in the rain in the rain in the snow Te devi schiacciare finché non le dice tutte Capito? Sai che l'ultima sillaba la dice con l'ultima parola E me le dava buone anche se ero leggermente Perché comunque è veloce quindi te devi schiacciare velocissimo Che 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 Grazie a tutti perchè mi ricordo che questo...ce avevamo bloccati i fratelli conto con lui c'eravamo mesi perchè in verità adesso le disfinte nella gente lo fanno questo è come un palmeno potevamo averlo già quasi finito in verità I'm working in the flea market so early I've been working here since my mama was a baby just because the rhythm is slow that don't mean that you can't flow in the rain or in the snow in the rain or in the snow got the funky flow got the funky flow in the rain or in the us andate e poi lo spatti subito per vedere vedi cosa hai detto? il pariso Montelago per poi venire No, adesso non sai dire la mia Trovo un'altra onda, poi ti lascio il potere del gioco Dai, comunque c'è un... No, il secondo l'hai vinto tu Sì, vinto tu, vinto tu Adesso, però questo siamo... Io non te lo ricordo C'è un'opera solo nuova C'è un'opera... ...to be nice and friendly All you ever need is to be nice and friendly All you ever need is to be nice and friendly All you ever need is to be nice and friendly Ah 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 ah, come on, è giusto Adesso ne ho vinto, mi ha fatto di difficoltà Cioè, sì... Stronzi, devi capire la meccanica Perché uno, se non so come funziona, è ovvio che perdono ma infatti cazzo c'è proprio la meccanica che è troppo punitiva è punitiva il video buono poi la gente se lamenta di Eldering qui c'è si chiama Space Channel 5 anche qui è un po' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellie con l'onticette No, 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 no Cioè, lo devi non scegliere della testa di farappa quando arriva Che razza Che tu fu o mavermi razza just a testa del razzo Andiamo a me in una pesca In a rain, in a snow Cos'è got the funky flow All your weapon needs is to be nice and friendly All you have needs is to be nice and friendly All your weapon needs is to be nice and friendly All you weapon needs is to be nice and friendly I can't believe you can't believe you Save everybody from way up above I can't tell how to cook you up like this I will try to sell the kids like that I can tell how to cook your class You know what I'm gonna do I can tell you what I will try to sell the cat right Geez, the girl who can tell you Is this the gun over here, will bring you luck A gun over here, will bring you luck The gun over here comes with the truck The gun over here comes with the truck Come on listen, I'll start over again Are you serious? mi fai incazzato anche io mi fai incazzato e mi vado a fumare una sigaretta perchè non riesco a resistere dalla rabbia e devo passare il mio amore ma tanto se vuoi io vado avanti ricordate fumare, fumare ricordo ecco perché la so ma prima la facevo via dio vado a metà dei due posti io faccio la pausa del nervoso vai vai venda fuori di solito vado a metà dei due posti vado di rostante sto pari a vedere vado di rostante sto pari a vedere oh farco non ma perché ho fatto doppio da non 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 ma perché intanto ho fatto così, vabbè troppo difficile Pettè, è il baiato Grazie per la visione Grazie a tutti Ce l'ho quasi fatta Fatta no Grazie a tutti Grazie a tutti Oh il credibile è perfetto Save everybody from way up above I can sell a bottle cap like this 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 I never dream it woulda be like this I am the number one ruler of the seven season The skunk over here will bring you love The skunk over here will win blow The skunk over here comes with a drum The hole over here will win the fuck Questo non l'ho capito On the run Ma cavolo era perfetto Cavoli ma l'avevo fatto bene Solo che Quando rifai in the rain and in the snow È uguale Solo che non me la prende la seconda parte Non so perché Faccio clicco identico Non so perché just because the rhythm is slow that don't mean that you can't flow in the rain or in the snow gotta gotta funky flow in the rain or in the snow gotta gotta funky flow gotta gotta funky flow that's life and friendly all you ever need is to be nice and friendly all you ever need is to be nice and friendly all you ever need is to be nice and friendly this l'ave ho fatto sai fino a good qua ero arrivato eh poi dopo qua ho sgarato un po this per intanto l'ave ho sbagliato io questo eh ce l'ave ho fatto municchio perchè dopo ah finito si perchè dopo ti ripete la la strofa dell'inizio che è quella che io so fa bene no e non me l'ha presa se no l'avevo vinto eh mannaggia allora ho fumato una sigaretta e sono concentrato perfetto sei dopato mi sei dopato si si ma ho i i i i i i i i C'è un po' di auto 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 Se no non so che potete farla peggio Fa vinta di giocare a me E te la demo diciamo quanto siamo bravi No io non so se si Bisogna controllare Se ci fa Se ci fa di cominciare da capo Se mettiamo easy Andavo 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 In app che siamo No ma io penso Se ci fa ce l'ho visto un video Perchè dico da più ora Magari è lo scarso non è da variettino Dice l'altro che Lei non mi ordini Lei In the rain I'm in the Got the got the funky flow In the rain I'm in the Got the got the funky flow Got the got the funky flow All you ever need is to be nice Un friendly All you ever need is to be nice And friendly All you ever need is to be nice and friendly All you ever need is to be nice and friendly All you ever need is to be nice and friendly But strike it rich the key is low Save everybody from way up I can sell a bottle cap like this I can sell a bottle cap like this I put by the cella cap like this I can sell a bottle cap like this I can sell a bottle cap like this I can sell a bottle cap like this Vediamo se potevi modificare Poi dopo Mi sa di si perchè mi ricordo che Dopo riproviamo a facile questo Direttamente Qua ti blocca Come mi ricordo che aveva Manno a ciao Ehm No No Non si E' che io continuo sempre con la stessa meccanica Come andiamo Si Se io parlo Ti giuro Lo primo pezzo lo smanetto al taso Eh ma peper Finchè non mi dice slow Cioè slow Si 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 Io non smetto di schiacciare Solo Vedi Vedi? No, non vedo perché non metto gli spazi borsi, se alla fine non la cava. Ma che non metti gli spazi borsi? Sì, la pausa. È un po' sì. È un po' molto così. Questa live è un po' Rell che sta sentì a vedere perché... No, ancora nessuno. Però dopo... Meno male. Meno male che se lo rivedrà. No, perché io di solito ho carico o se finisco il gioco. Questa è improvvisata e infatti bisogna studiarla prima. Se sapevo che era così difficile lo facevamo direttamente a Izzy e scegliamo questo gioco. È un po' figlio se alla fine metti i casi un miracolo e ce lo facciamo. Dopo questo mette a gioco e se no. Sono sei canzoni. No, niente. Non c'è, l'ho fatto sempre così. Non c'è, l'ho fatto sempre così. Izzy, Natalia. È bene. È bene. È bene. È bene, è bene. Volevo provare una cosa No, ah, io vedi, troppa di forza Le faccio te lo vedi Guarda molto alla tempo Lo vedi, le ultime, io, non so, però io le ultime Le faccio come le prime, tanto è la stessa strofa, mi pare, non è che le aggiungono Facciamo no per caso Per caso Per caso peghiamo Schiacciamolo, vai, easy, via Ah, però vedi, c'è lo stage select Sì Poi dopo devo andare qua No, però torno indietro un attimo Ah, sono tutti locati Torno un attimo indietro No, non è selezionato, è selezionato normal però Ah, quello dovremmo aver fatto tutta la capo Sì Però Beh, fammi due secondi Sì Ah Schippiamo 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 Dai Dai, fa un inizio di rischio Ma la fine è Kung Fu questo Se c'è una cosa da creare Vabbè Se no, fammi partire da fare il video No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Dove va Dove va Vi va No No Questo si capiva. Video X l'ho fatto. Perché non l'aprire? E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Sono l'uomo. E' un po' di più. E' un po' di più. O-. Ok! Tá Rapparappa, dice, fa pancia, pancia, pancia E non si scrive, tipo Sì, sì, le famo La scritta, la scritta Sì, abbiamo tutte queste rotte le scatole Vieni, quando ci vuole due minuti Lo sfiderà in easy mode Ma l'importante è che famo vedere il gioco Dunque ho letto che questo gioco È fatto Il design da una certa Masai Yamazura Che ha questa compagnia che si chiama Dov'è che ho letto Sto... La compagnia si chiama Nana Onsha E quindi hanno creato sto personaggio Una compagnia musicale Oh, non ho fatto un cesto Ha già cominciato E che musiche di questa Masai Yamazura Di Yoshisa Io non le ho mai sentite Non le ho mai sentite La sfortuna che mi mandano Io lo mandavo anche noi Vedi, è molto più carino e più carino Non le ho mai sentite Non le ho mai sentite Non le ho mai sentite La sfortuna che si chiama Non le ho sentite Non le ho sentite Eh, ciao Oh, non le ho sentite Sì Oh, 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 oh Stop the car We got an emergency Can't you see? Do you know why we stop the car? Do I know why we stop the car? Yes Yeah What? What? Do you know why we stop the car? Do you know why we stop the car? Yes Sì, sì, sì. What? I forgot to close the door. You forgot to close the door. That's what you do. I think you can double Mousseline to the chip, but I'm not going to double the phone. Now just don't forget, this ain't Kung Fu, come on again. Check and turn the single to the right. Check and turn the single to the right. Step on the gas, now turn to the right. Step on the gas, now turn to the right. Check and turn the single to the left, Miss Gossi. Check and turn the single to the left. Step on the gas, now turn to the left. Step on the gas, now turn to the right. Step on the brakes, step on the brake. Before we stop the car again, do I know when we stop the car again? That's because she just got your license. Oh, ha visto speed run? Eh, infatti, in modalità facile, proprio da Nambi. Sì, sì, ma questo non ce lo vuoi, è troppo difficile. No, ma infatti. L'ultima volta che ci ho giocato, questo si può schippar, sì, perché siamo arrivati proprio qui. Esatto. E torniamo qui. A Princess Flea Swallow, il mio personaggio preferito di sempre. No, neve. Chi è? Quello di Lara. Il fattore. Il rag... Il raggettone. Il raggettone. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Mio padre mi morde. E siamo giù, guarda, è passato 5 minuti, come se non fosse successo niente. Guarda quanto è molto di meno... Proprio era quasi uguale, vero il partner? Non mancava uguale. Ma io mi ricordo... Eh, sì, un po' da... Guarda, ma il cazzo è uguale. Guarda, ma il troppo è più... Io l'ho fatta enorme così, è tutto resistente, sono al perro del mondo, no scherzo, questa è difficilissima Io ho sempre fatto così, è comunque Meglio No, non diciamo Questa mi vergoglio No, vabbè ci sta che On the run In the rain or in the snow In the rain or in the snow Got the funky flow In the rain or in the snow In the rain or in the snow On the rain or in the snow Si infatti si contro di Money, 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 is all you need Money, lo volevo provare perché io Perché so che i pro fanno anche il freestyle, l'ho provato a fare anche io Così Perchè per andare su cool, vedi che non ci siamo mai arrivati su cool No, no, forse è il pezzo Ho preso un colco Credo Ho preso un colpo Ho preso un colpo Ho preso un colpo E' probabilmente Lui non ho schiacciato niente Ma dopo che ha comprato la macchina Cosa ha fatto vedere? E' uguale E' uguale E' uguale Non la vedo male E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale Questa è la tosto si Però è un po' strano Ma è partito Cioè Allora ha comprato la macchina E poi ha fatto L'alieno arriva I sordi sono finiti Perchè ha spaccato la macchina Andato dal mercatino Ha detto No ha risentato un po' più il gioco Ma perchè? Ma perchè? Adesso voglio capire un attimo perchè Capiamo un attimo Questa cosa Ho fatto stato Ho fatto sbagliato E devi far rivedere quel pezzo E voglio capire un attimo Ecco ho sbagliato si Però si Stesso se esco io eh Via 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 Non trovavo più Per forse ho sbagliato Ah ho capito io cosa è successo Dovevamo andare qui Easy ok Poi exit Dovevamo anzichè fare stage select Tocca rifare le prime tre veloci Va bene Ok Ok Adesso che è su easy Ah perchè prima era easy Era easy però Abbiamo fatto stage select E ti fa giocare Aspetta allora Poi voglio capire una cosa Faccio la prova Così almeno capiamo anche per guidare a casa Se uno vuole rifare da capo Praticamente Dovevi far start Così sarebbe che fai la storia easy Invece Noi abbiamo Però se Se abbiamo fatto stage select Abbiamo Abbiamo battuto Tra virgolette Il rospo No? La gallina Ah no non ce la fa sceglie la gallina Ma scusa però Noi abbiamo Siamo iniziati da qui Ce l'ha fatto i farifila Ma secondo me perchè abbiamo sbloccato con la modalità normale Fino al rospo Esatto E quindi ci ha fatto rimanere lì Esatto E poi ci ha fatto rimanere lì Noi dovremmo continuare al normale Allora adesso Adesso io voglio fare così exit Dai famo rispondere anche in due minuti i primi due livelli Tanto sono veloci però No per capire Tocca rifare Porca miseria Molto strano Adesso in teoria dovrebbe già partire a easy Capito? Tu dovevi fare un salvataggio a easy Capito? Mannaggia Invece qua è come se fossimo andati Vabbè noi schifiamo nel menu nostro Ricordiamoci di cui è il nostro gioco 98 96 Cioè un anno così 6 dicembre 96 Un anno dopo proprio perchè è novembre ho letto Nord America e Europa Allora adesso Let's do get a lesson from teacher Now kick Kick Punch Punch Jump Drop Drop Once more now kick Kick Punch Punch Jump And block Don't get cocky It's gonna get cocky We gonna move down to the next Jockey Now duck Duck Jump 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 Turn Turn Call Yes I'm careful Jump Jump Call C'ho una teoria Poi te la dico aspetta Ti immagini Ti immagini noi adesso l'avevamo fatto a normale e eravamo diventato fortissimo Sì Sto sbagliando Sì anche me Sì Sai perchè c'ho sto Sto dubbio Perchè mi ricordo che Meno tasti Invece il pattern è uguale mi ricordo che Ed hitbox Sì anche io le chiamo hitbox anche se è un'altra roba Però è per capire la hitbox di quando è range no? Però io mi ricordo che Rospot quando fa in the ring in the slurs Che set era notaree Capito Ecco perchè il dubbio in meditato immagine l'avevamo fatto Quanto altro Su Chia Perciò Allora Un minuto Perciò C'è Quanto altro Però E' si preme e fa come il dj guardate c'hai qualche piattaforma no non ce l'avevo però l'ho sentito recentemente sto gioco che si chiama dj che cavolo ne so io no c'era perchè c'era dj hero che però era sul play 3 già quello che c'avevi tutto i due e non mi ricordavo la playstation 1 però non l'avevo mai sentito lì qua vuoi fare muselini di nuovo veloce comunque uno l'aveva caricato su youtube pulite le canzoni l'ascoltavo sempre si infatti guarda quanto range eh no infatti sembra troppo buono ho dovuto sgarrarare no non apposta bella si c'ha molta hitbox più a forse dipende dalla versione europea mantiene le stesse pattern per chi ce l'avevo americano sicuramente perchè è il masterizzato si può dire no ma si ho sbagliato ma freestyle freestyle mi ricordi mi ricordi c'ho sto vague molto no sto vivido ricorda 2 3 non c'ho capito te la da vedi si si è easy palese però chissà forse in questa versione cambia solo range di errore mi ricordo che da fiolo io giocavo a easy ed era molto diverso si è un'altra se c'è un'altra non è in questa versione ma è in questa versione che non è in questa versione è in questa versione la prova del 9 vediamo se qua tanto io ho messo a easy e poi ho avviato su start hanno visto tu, cioè non è che ho sbagliato a impostare le cose no non mi fa, hanno visto tutti i testimoni dai parappa poi ho fatto start e abbiamo cominciato questo però vedi che a easy non ti fa manco salvare un livello e largo ah c'hai ragione ma chissà perchè ho sbagliato io a fare qualcosa ma non mi piace mi puzza questa cosa lì ci riavvia dopo non c'è il piano un po' si cioè si tu devi prendere quando passa non 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, ma io sto sicuro che nessuno ha premuto niente, solo che mi pare strano. Come si fa a fare un nuovo... Voglio vedere che succede, devo comprare la macchina. Ah, è solo una macchina. Sì, sì, c'era, c'era, mi fa vedere. Allora, è carica, però, perché devo fare... No, aspetta, è giusto? Se fa l'alieno... No, non ho capito perché riavvia il gioco. Forse è easy, può arrivare solo qui. Eh, non fa... Secondo me devi sbloccare prima. Eh, però sì, lo cominciamo a modalità normale. Ah, easy. Ti devi fare cosa? Ti devi credere! Eh, vabbè... Non so, ti devi andare. Sì, forse. E niente, questa è parapa delle easy mode. No, perché comunque, vedi, qua è su normal, invece, se io facessi per dire, famo una prova. Però vedi, stage select ti fa scegliere... Ma che l'hai fatto? Perché dopo c'è quella lì, il livello del cuoco, della cuoca, poi lui... Il cesso. Il cesso che lui deve riaffrontare tutti i boss vecchi. Ah, ma... E poi c'è, non ho capito se quello lì, coi rastre. Ragno. Ragno, sì, ragno, perché c'è anche le trecine coi rastre, non so. Eh, come disse Fantozzi. Parappa dei rapper è una cagata pazzesca. No, sì. No, è davvero. No, scherzo. Bello, però... Però, porco, due. È una montagna... Però, vedi, io non ho capito, si fa l'ordine, no? È giusto per vedere. Sì, sì. Ah, vedi, c'è sto salvataggio qui. Eh, sì, ma non ho capito, non mi dite. Voglio provare così? Sì, sì. Eh, sì, ma non mi ricordo, magari. C'è, c'è. Sì, chi ne è? Però, vedi, allora, io ho messo easy, no? Eh, no. Ma perché? Io non ho capito. Vabbè. Ma non grazie a roba, ma in realtà. Vabbè, semmai questa famo... Cioè, la live c'è stata, poi dopo non so se lo carico, perché voglio... O un giorno lo famo... Tanto me lo tengo, lo completiamo, se ce lo vuoi. Sì, sì. Perché capisco meglio. Tanto io carico, no? No, non muovo, Riccardo, ci siamo. Ok, ho caricato. E quindi? No, selezionare gli stage. Eh, no. Poi se io faccio start... Ma scusa, ogni volta devi cominciare, per esempio, se io... Adesso dopo stacchiamo, eh... Ho caricato il salvataggio, no? Adesso fa l'alieno. Schippiamo. Ho caricato il salvataggio, ma se vado qua... Dai, questo è meno che no? Adesso mi risolvi offiti. Prossimo start parte dal primo, vero? Cioè, allora uno non poteva finirlo lo stesso giorno. Cioè, non ho capito. Anche se volessi continuare normale, no? No, niente, va bene. Eh, vabbè. E niente, salutiamo chi c'è a casa. Chi c'è al mare, spiaggia. A casa, esatto, non a casa. A caso, chi c'è a caso, anche. E grazie per chi c'è stato e chi c'è e chi ci sarà. Cioè, nessuno, però... Niente, questa è la parata dell'ep. Per molto difficile, boh, sta, bella. Bella, molto difficile, via. Buon, ciao. Ciao. Ciao.